Va bene, avete visto il convegno molto interessante, poi naturalmente arrivare al Palazzo La Rocca è sempre stato difficile, quindi utilizzarlo per convegni ha il suo valore storico e culturale, ma ci sono i problemi per raggiungerlo facilmente, quindi magari sarebbe più utile, secondo me, avere in quel palazzo qualcosa di diverso piuttosto che una sala di convegni, ma questo lo sceglierà poi la provincia. Restiamo un attimo a parlare del Comune, perché attenzione, questo palazzo come è stato ben detto più volte è di proprietà della vecchia Apit, l'avamo comprato noi, l'azienda per il turismo nel 1991, poi quando hanno chiuso le aziende nel 2006 tutto è passato ed è passato anche delle cose di proprietà bellissime, pensate per esempio, di questo ne parleremo un giorno, della famosa fattoria Tumino che era di proprietà dell'azienda per il turismo sulla strada per Catania sulla sinistra, ora con l'autostrada sarebbe anzi un posto da rivedere certamente, che era molto 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 bello, tutte queste cose si sono perse, anzi meno male che Palazzo La Rocca lo hanno ripreso un po'. Non c'entra il Comune, invece una cosa che riguarda il Comune che è molto interessante, questa storia ne hanno parlato ieri anche il nostro turiudice con l'assessore Mario D'Asta che è la storia delle docce a pagamento, qualcuno si è scandalizzato dicendo porca miseria come facciamo le docce a pagamento, noi come facciamo ad avere i soldi 10 centese nella tasca qua là. Allora stanno facendo una manifestazione di interesse per chi volesse vendere questi braccialetti che sono il Comune, si parla proprio di braccialetti elettronici che potranno essere in qualche modo acquistati, in qualche modo utilizzati, che servono proprio a far funzionare le docce comprando in dimensioni di esercizi che distribuiscono braccialetti tessere per l'utilizzo delle docce a Maria di Ragusa. Quindi tutte le rivendite di attività commerciali c'è questo braccialetto tessere, uno paga 10 euro e chiaramente avrà diritto a 50 docce, non lo so quanto costa questo poi se lo devono dire loro. Quindi non è uno scandalo, prima di tutto perché l'acqua ha un costo, avete sentito quello che è accaduto con i blea acque, ancora ma birre dove arriveremo? L'acqua ha un costo, questa è acqua che si spreca inutilmente, c'è gente che lascia le cose accese per ore intere, oppure si fanno sette docce, ogni volta che ti fai il bagno ti vai a fare la doccia, non è così, guardate che l'acqua di mare a detta degli antichi fa bene sulla pelle, certo quando uno vuoi se ne va si lava ed è un'ottima cosa. Quindi per me sembra un'idea molto valida ed è giusto che si faccia così. Ora andiamo a parlare di cultura, vi ricordo la mostra che si chiama Frammenti di Storia che è in corso alla Sala Borse della Camera di Commercio, per motivi che naturalmente sono anche logistici, la mostra aprirà ora nuovamente sabato e domenica. Vi posso assicurare che le vedete che ci sono delle opere molto belle, molto interessanti e anche con dei prezzi, perché poi la finalità di una vostra è sempre quella di vendere dei quadri. Il curatore è l'amico Armando Sparacino che espone pure dei suoi quadri, ma ci sono quadri di artisti che negli anni 50, 60, 70 del secolo scorso avevano un nome, per esempio Anna Salvatore, Novella Parigini, Fiorenza Cribellati, ma anche uomini, pittori come Franco Urtis, Sergio Ughi e lo stesso Armando Sparacino. Quindi sabato e domenica sarà possibile visitare la mostra e chi vuole può anche acquistare dei quadri, attenzione, perché questi quadri sono di questi artisti che non ci sono più e quindi sono di proprietà di qualcuno che li mette a disposizione e chiaramente se li vende non ci sarebbe nulla di male, anzi sono convinti che sarebbe veramente interessante. Quindi da Armando Sparacino con la sua mostra di pittura di cui lui è curatore, sabato e domenica alla Camera di Commercio. E chiudiamo parlando di teatro, ma il teatro estivo perché voi sapete che da qualche tempo la compagnia Godot, soprattutto nel periodo estivo, riesce ad occupare diversi momenti dell'estate donna fugasca. Chi gestisce donna fugata si batte per avere tutta una serie di eventi, farle a te capigliatile, signore buonaccio. Io invece sono dell'idea che bisognerebbe rendere donna fugata un posto d'elite, dove fare solo roba di un certo livello, certamente la compagnia Godot è fra questi, in modo che non sia una cosa in cui ci va ogni sera, ma che diventa un appuntamento di classe elegante, uno si ferma, mangia, insomma è tutto un giro intorno al teatro e agli spettacoli a donna fugata. Detto questo vi lascio con Gianni Papa e i suoi ospiti, grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima edizione. Ciao a tutti.